L'unica cosa che chiedo al governo è di dividere l'Italia per regioni, perché ci sono certe regioni che hanno delle problematiche serie, ma altre che non hanno queste problematiche. Per cui chiedo di fare quel famoso ragionamento sindaci e governatori che si confrontano col governo e prendono le decisioni. Gli altri stanno probabilmente peggio di noi, a marzo eravamo noi in anticipo sugli altri, oggi Francia e Germania che chiudono ci dicono forse che alcune misure saranno importanti. Il presidente Federica pochi minuti fa non ha escluso misure più stringenti a patto che funzionino. Questo è quello che tutti noi auspichiamo, che le prossime settimane che da previsioni vedono un preoccupante aumento sia dei contagiati, ma anche dei ricoveri in ospedale, in terapia attensiva, in qualche maniera veda un'efficacia delle misure messe fino ad oggi. Tutta la classe politica locale teme un lockdown nazionale, nessuno lo augura al paese, ma le sensazioni del momento non sono ottimistiche. Io auspico veramente che non si arrivi al lockdown totale e generale, sarebbe un disastro per l'economia italiana, sarebbe un disastro per la nostra società. È stato approvato il decreto di risarcimento per questi lavoratori che non potranno proseguire l'attività in certe fasce orarie. Forza Italia chiede dal Parlamento a tutto il territorio nazionale che queste misure però arrivino presto. Da destra a sinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, si distinguono tratti comuni e pensieri differenti. I primi richiamano all'unità, i secondi riprendono i limiti dell'ultimo DPCM e il comportamento del governo. Il governatore mi ha fatto piacere, ha cambiato tono rispetto a quanto detto in piazza, quindi ha ammesso che forse nei prossimi giorni bisognerà essere ancora più attenti e ci sarà bisogno di misure ancora più drastiche. Mi ha fatto anche piacere che il dibattito di questi giorni in consiglio abbia visto opposizione e maggioranza uniti e oggi sembra che la Giunta stia accogliendo la nostra proposta di spostare 5 milioni di spese del 2021 per renderle immediatamente disponibili per le categorie. Non so se ci sarà un lockdown, certamente per vedere l'effetto o il non effetto, perché ripeto sono molto scettico sulle misure che sono state prese adesso, di queste misure in teoria dovremmo aspettare almeno un paio di settimane, quindi vediamo cosa succede. Certo se avvenisse primo un lockdown evidentemente sarebbe la conferma che di questa settimana era solo un passaggio intermedio già pianificato da tempo per portarci poi a un lockdown.